Un saluto e un abbraccio a tutti gli amici di Twitch e tutti coloro i quali ci seguono sui social network. In questo videocast parliamo di sportello psicopedagogico all'interno delle scuole e l'importanza che questo può avere, portando anche un'esperienza concreta, quello dell'Istituto Comprensivo Galilei di Corsico in provincia di Milano, insieme alla dirigente scolastica Sonia Maranci e alla psicologa neuropsichiatra che conduce questo sportello, la dottoressa Federica Pirrera. Buonasera. Dottoressa Sonia Maranci, il vostro istituto diciamo che da diversi anni presta una certa attenzione alle tematiche psicologiche di supporto ai ragazzi e anche alle famiglie, ma quest'anno si è voluto andare un po' più in profondità proprio per dare delle risposte più specifiche all'emergenza della pandemia del Covid-19. Sì, è vero, in effetti è proprio così. Il Ministero dell'Istruzione ha siglato un accordo con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ed è stata stanziata una cifra per ogni scuola con cui poter appunto erogare un servizio che fosse efficace, che fosse a 360 gradi, quindi un servizio dedicato alle famiglie, ai docenti e anche agli studenti. Diciamo che sì, lo sportello nelle scuole c'è da molto tempo, ma quest'anno sicuramente le necessità sono cambiate, sono diverse e ne parleremo magari a breve, in modo un pochino più approfondito, sicuramente la pandemia ha acuito queste esigenze. Dottoressa Pirrera, ci spieghi un pochino come si è svolto e come continuerà a svolgersi, ormai siamo alle battute finali di questo difficile anno scolastico. Lo sportello psicopedagogico, con quali obiettivi e che tipo di servizi ha offerto durante questo anno scolastico? Sì, allora, farei una precisazione rispetto al mio ruolo, nel senso che io sono psicologa, psicoterapeuta, quindi non sono neuropsichiatra, per cui come dire ho portato un po' questo pezzettino all'interno dell'istituto, offrendo la possibilità agli studenti della scuola secondaria di fissare dei colloqui e in generale per tutto l'istituto ho offerto la possibilità di fissare un po' dei colloqui anche verso il personale scolastico e anche per tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta. Sono stati sicuramente dei mesi molto intensi, mesi in cui c'è stata una richiesta importante da parte di famiglie e di studenti, non solo da un punto di vista diciamo così psicologico individuale, ma c'è stata anche una richiesta importante di intervento all'interno delle classi, della secondaria e della primaria, per cui è stato possibile, grazie appunto a questo servizio che è interno alla scuola, è stato possibile sviluppare dei piccoli progettini ad hoc per, come dire, affrontare, cercare un po' di aiutare alcune dinamiche di gruppo, alcune situazioni magari un po' più complesse all'interno di alcune classi. Per cui è stato, si è cercato un po' di offrire questo servizio, come dire, a 360 gradi, rivolgendosi sia a chiunque ne facesse richiesta tramite dei colloqui online, sia poi attivamente lavorando a scuola, e tuttora sto portando avanti alcuni progetti, lavorando a scuola poi con quei ragazzi, quindi entrando con loro nelle classi. Dottoressa Maranci, le famiglie come hanno risposto? C'è stata collaborazione, entusiasmo, partecipazione allo sportello psicopedagogico attivato quest'anno? Allora, intanto diciamo che lo sportello è partito da gennaio, ecco perché poi come si sa, diciamo tutte le pratiche burocratiche, perché naturalmente la dottoressa Pirera diciamo collabora con il nostro istituto perché ha vinto un bando, quindi un regolare bando, e quindi, come dire, le lungaggini burocratiche hanno portato a iniziare lo sportello ad anno scolastico già avviato. Abbiamo presentato il progetto a fine dicembre e in quell'occasione è stato presentato appunto alle famiglie, devo dire che c'è stato sin da subito un interesse in quanto le famiglie hanno anche suggerito come poter modificare, intervenire nel progetto che noi avevamo proposto, chiedendo anche dei momenti loro dedicati e quindi chiedendo di organizzare delle serate a tema che tra poco vi presenteremo. Inoltre hanno risposto direi con interesse chiedendo delle consulenze. Rimane a mio avviso sempre un po' di timore per questa figura dello psicologo. È vero però che il nostro territorio è un territorio che necessita spesso anche di aiuti particolari che le istituzioni hanno il dovere di offrire. Hanno risposto abbastanza bene anche quando è stata data loro informazione che la dottoressa sarebbe intervenuta per la gestione delle relazioni nelle classi, quindi non ho avuto riscontri di nessun problema e hanno risposto altrettanto bene, dando l'autorizzazione alla dottoressa di poter colloquiare con i ragazzi della scuola media. Quindi direi che l'esperienza è positiva, sicuramente da potenziare e da portare avanti. Dottoressa Pirrera, quanto è importante uno sportello psicopedagogico di questo tipo nell'istituzione scolastica? Fino adesso, secondo la sua esperienza, perché lei ci lavora ormai da diversi anni nelle scuole e con i ragazzi, si potrebbe fare sicuramente di più a livello anche istituzionale? Ma allora, innanzitutto credo che sia un servizio fondamentale all'interno di ogni scuola, quindi sarebbe importante, per quella che è la mia esperienza, portare questo pezzettino in tutte le scuole scolastiche, sia perché diventa poi un po' effettivamente lo spazio in cui appunto chi sente un po' la necessità di parlare con una psicologa o uno psicologo può trovare in quell'ambiente lì la privacy dedicata, in uno spazio comunque garantito all'interno di un'istituzione, uno spazio che è gratuito, per cui credo che sicuramente sia un servizio fondamentale. Sicuramente è un servizio forse possiamo dire ancora un po' nuovo, nel senso che purtroppo per fortuna, possiamo vederla da entrambe le parti, il Covid ha permesso anche un po' forse di aprire la strada anche nelle istituzioni di questi servizi, non parlo solo della scuola ma proprio in generale. Mi auguro che sia un po' l'inizio in fondo di un cambiamento che possa poi veramente trovare delle radici profonde in generale nella nostra cultura. Credo che quindi sicuramente sia un servizio che può dare tanto, noi quest'anno abbiamo fatto il massimo, mi viene da dire continueremo a fare il massimo fino alla fine della scuola per quanto ci è possibile, perché effettivamente poi i bisogni sono veramente tantissimi. Si cerca di rispondere, si cerca di essere presenti, però ci si rende conto che effettivamente più si dà spazio più emergono nuove necessità, per cui credo che sia un servizio che non arrivi mai al massimo, ma che può sempre aumentare, può sempre offrire pezzi in più alle persone che non sono solo pezzi di sostegno, aiuto, ma che siano anche spazi proprio di riflessione. In fondo le serate che tra poco presenteremo voglio dire un po' questo, uno spazio in cui potersi confrontare tra genitori, relazionarsi tra loro, in cui poter confrontarsi anche con me su degli stimoli che verranno offerti, per cui credo che sia proprio che possa anche offrire il servizio sportello ascolto proprio dei momenti di riflessione, li chiamerei un po' così, aperti proprio tutti, per cui mi viene da dire c'è sempre da fare un pezzettino in più. E veniamo a queste serate a tema che mi sembra aver capito, sono state fortemente volute dalle famiglie, segnale estremamente positivo di questa partecipazione, io aggiungo in modo piuttosto forte una scuola presente nonostante ciò, nonostante queste difficoltà come la dottoressa Tirrera e sottolineava prima, si prosegue e si va avanti. Ci saranno tre serate a tema, il 6 e il 14 maggio, si partirà con come ci ha cambiato il Covid e la paura del contagio. Bella domanda, veramente una bella domanda, una domanda che ci fa andare in profondità. chi vuole iniziare a provare a dare una minima risposta? Ne avremmo tanto da dire, immagina. Sì, beh, io quello che posso dire vedendo, insomma, dal mio ruolo, allora intanto la maggior parte, voglio dire questo, la maggior parte delle famiglie e degli studenti nonostante tutto si sono comportati benissimo, benissimo. Quindi è stato un anno che sta volgendo alla fine, molto faticoso, ma i bambini, i ragazzi e le loro famiglie sono stati molto collaborativi. Vero è che però rimane latente e si percepisce, laddove invece non è proprio esplicita, la paura. Questo sì, lo posso dire, diverse famiglie a inizio anno e poi a ridosso delle diverse ondate oppure al rientro dei periodi di didattica a distanza e quindi di chiusura di iniziale, quindi di alcune classi o addirittura di tutta l'istituzione scolastica come nel mese di marzo non mandavano i figli a scuola, non hanno mandato i figli a scuola per un po' di giorni, quindi abbiamo dovuto rincorrere queste famiglie e spiegare loro, rassicurandole, spiegare loro che si può convivere, si deve convivere con la pandemia e che a scuola dobbiamo venire. E siamo riusciti a recuperare queste situazioni nella quasi totalità dei casi, però questo voglio dire dimostra che la paura c'è, c'è ancora e quindi bisogna viverla insieme, mi viene da dire questo, ecco lancerei proprio come dire la staffetta, la dottoressa che sicuramente aggiungerà qualcosa di utile a questa discussione, se stiamo uniti, se ne parliamo, se non ci chiudiamo possiamo affrontare questa difficoltà che per il nostro mondo, per il mondo intero è un po' nuova. Sì, ecco rispetto a questo credo che sia sicuramente molto importante, per cui sottolineare come effettivamente ha completamente stravolto da una parte il significato, mi viene da dire un po' di relazione, per cui ha cambiato proprio il nostro modo di relazionarci, di fianco a questo aggiungerei che ha proprio cambiato anche il nostro modo di percepirci vicino o distante dall'altro. Per cui il Covid, come dire, sicuramente ha stravolto le vite di ognuno di noi da tanti punti di vista. Ecco, forse l'aspetto che ci piacerebbe un po' ritrovare in questa serata è quello proprio di vicinanza, di confronto, di relazione, per cui seppur sarà online, che è quindi ormai l'utilizzo del computer, ormai ci accompagna, però vuole essere proprio uno spazio in cui potersi sentire anche un po' vicini, un po' vicini nelle difficoltà, nei momenti di fatica che ognuno di noi ha dovuto affrontare, che le famiglie hanno affrontato, nelle paure rispetto al ritorno, non solo a scuola, ma anche il ritorno a una vita a un certo punto, che è dove l'abbiamo lasciata e l'abbiamo messa un po' in stand by. E vuole essere anche, secondo me, un momento importante di confronto anche rispetto alle risorse che poi tutti insieme dobbiamo un po' mettere in campo e che ognuno di noi ha già messo in campo, ma che forse vale la pena un po' condividere per riuscire a ritrovare proprio una rete in cui appoggiarsi e affrontare un po' la solitudine che questo Covid ha proprio portato nelle nostre vite e che i ragazzi e i bambini lo vedono tanto in classe con i banchi distanziati, con il distanziamento, la mascherina. Ma lei che ha un contatto diretto con i ragazzi, ma i ragazzi hanno reale consapevolezza e hanno la percezione della paura del contagio o provano a rimuovere nelle loro relazioni quotidiane. Io ho questa sensazione, soprattutto adesso in questa fase, rispetto più per esempio a un anno fa. Io ho la sensazione insomma che abbiano quasi per una sorta di forma involontaria di incoscienza stiano provando a rimuovere questa paura del contagio. Allora, non so se si può parlare di rimozione in questo caso, sicuramente la sensazione, girando nelle diverse scuole e poi in particolare nella vostra, è che ci sia forse più un forte desiderio di ripartire. Per cui i ragazzi che hanno vissuto o che stanno vivendo una preadolescenza bloccata, una scuola primaria, quindi un'infanzia bloccata in qualche modo, hanno proprio voglia a questo punto un po' di riprendersi alcuni pezzettini che li si sono stati, come dire, che sono stati negati e che hanno dovuto lasciare indietro. Per cui c'è voglia di uscire con gli amici, c'è voglia di, come dire, rifare delle esperienze di condivisione, c'è voglia anche di riservare... Beh, certo, le chiedo scusa, ecco, quanto mancheranno le uscite didattiche, i viaggi di istruzione? Secondo me è un tassello che poi a distanza di tempo presenterà il conto, è anche molto salato, perché forse adesso non se ne rendono conto, perché proprio in questa esperienza vengono fuori dinamiche completamente diverse, ed è un pezzettino che gli mancherà. Sì, infatti, così, parlando un po' con gli studenti in questi mesi, più volte è emerso proprio il tema della gita come momento, non solo formativo, ma come momento di condivisione che creava gruppo, e questo è un qualcosa che non ritornerà, perché in fondo, come dire, siamo già un anno e mezzo all'incirca dell'inizio della pandemia, per cui molti ragazzi stanno affrontando dei passaggi evolutivi importanti, se pensiamo ad esempio alle scuole medie che durano solo tre anni, stanno affrontando tutta una serie di passaggi, di cambiamenti, e stanno perdendo invece alcuni momenti preziosi di condivisione con i compagni, di scoperta, di conoscenza di sé e dell'altro, per cui… Io aggiungo anche che mancano, almeno a me mancano tantissimo, mancano anche sul versante dei docenti, perché noi ce ne dimentichiamo, giustamente l'attenzione è rivolta agli studenti, però ci sono anche gli insegnanti. Io ogni mattina che vado a scuola, soprattutto in questo periodo, mese di aprile e di maggio, quando si organizzavano i viaggi di istruzione, respirare quell'aria nel nostro viale alberato, vedere qualche pullman che passa a vuoto, mi fa ricordare a questi momenti che in quest'anno e mezzo anche io come insegnante ho perso, perché in queste situazioni non si scoprono soltanto i ragazzi, ma ci scopriamo noi stessi e anche in una nuova versione nel rapporto con loro. Quindi anche per noi, secondo me, ci mancheranno dei pezzi importanti, devo dire, nonostante l'esperienza, nonostante la nostra età. Sì, i viaggi, i progetti, la progettualità, le uscite didattiche, i viaggi sicuramente, ma anche la progettualità in aula, la didattica che in qualche modo si è adeguata a questa situazione, perché si era cominciato a lavorare in Italia, devo dire, anche con ritardo, per esempio rispetto ad altri paesi europei, sulla didattica per competenze, quindi con i banchi strutturati, con il setting della classe strutturato in maniera ad hoc, per cui la vicinanza era proprio una delle caratteristiche di questa tipologia di didattica. E questo ora, in questo momento, non si può fare. Devo dire che il nostro istituto, insomma, siamo stati bravi in qualche modo a non abbandonare tutta la progettualità e a tentare di mantenere, faccio un esempio, noi abbiamo un bel teatro, non l'abbiamo usato quest'anno, non lo useremo, però stamane è stato, è realizzato un evento ieri alla scuola primaria e stamattina alla scuola secondaria, un incontro con un autore online, certo, non è la stessa cosa, quindi abbiamo cercato di non togliere ai ragazzi la progettualità, però non siamo andati in teatro, non abbiamo accolto l'autore in teatro, non abbiamo potuto avvicinarci a lui e fargli, non so, delle domande, chiedere un autografo anche banalmente, quindi, ma sono tante le cose che mancano. Ma speriamo, diciamo, con l'aumento della campagna vaccinale di arrivare il prossimo anno a, come dire, ricominciare a ritrovare anche questi momenti nella scuola. Come ci ha cambiato il Covid e la paura del contagio, questa doppia serata 6 e 14 maggio. Veniamo al secondo tema, direi strettamente legato proprio, no? A questa che è la soluzione che al momento ci offre, no? L'emergenza. 17 e 24 maggio, la rete, risorse e rischi. Quanto, dottoressa Pirrera, i ragazzi sono riusciti a scoprire ancora meglio la rete e a utilizzarla in una forma molto più funzionale e non soltanto per giocare, ma anche a livello didattico e anche per approfondire, dico io, le relazioni, perché noi ci fermiamo alla superficialità, no? Di ciò che ti offre la rete nelle relazioni, ma se noi sapessimo utilizzarla nella maniera efficace, potremmo anche scoprire anche una forza in questo senso della rete. Sì, allora, partirei proprio dall'inizio, come dire, della pandemia in cui forse in molti casi sono stati addirittura i ragazzi a insegnare, ad aiutare, a stare, come dire, un po' vicino agli adulti che effettivamente si sono trovati in un mondo che in alcuni casi era proprio sconosciuto. Per cui sicuramente già questo è stato un po' un punto forza dei ragazzi. Poi credo che nel corso del tempo loro, noi adulti, tutti insomma ci siamo dovuti un po' barcamenare e abbiamo scoperto. Credo che i ragazzi, come dire, abbiano vissuto questo periodo sicuramente, e siano tuttora vivendo sicuramente, comprendendo meglio, come dire, il significato della rete, l'importanza di quello che si utilizza, stanno diventando, come dire, veramente molto bravi anche a scoprire nuovi aspetti. Per cui credo che sia un periodo florido da questo punto di vista, no? Dall'altra parte ci sono anche rischi, per cui non si può pensare che ci si approccia la rete senza tenere conto poi dei rischi, non solo di quello che si può trovare, no? Ma anche i rischi di come ci si pone. Ecco, per cui vuole essere una serata un po' che va a mettere in evidenza un po' entrambi, no? Gli aspetti. Credo che i ragazzi abbiano e stiano dando il massimo rispetto all'utilizzo della tecnologia, rispetto all'utilizzo di internet. Se penso alla didattica a distanza, la fatica di insegnanti e studenti di stare collegati, ore, di cercare di, come dire, rendere comunque una lezione interessante, riuscire a gestire un gruppo classe collegato con l'utilizzo della chat e credo che ci siano stati svariati, insomma, momenti in cui magari la chat viene utilizzata in altro modo, per cui c'è stato proprio un adattamento un po' generale e uno scoprirsi un po' a vicenda. Credo in questo senso che il cambiamento che ha portato il Covid sia un cambiamento proprio relazionale anche dal punto di vista della rete, perché in fondo si è sempre pensato, come dire, che gli adolescenti si ritirino semplicemente sulla rete, ma è stato un po' un momento in cui forse tutti ci siamo resi conto, e parlo di noi adulti, anche effettivamente di cosa vuol dire per loro vivere quel mondo lì e di quanto sia importante. Non esaustivo, perché per fortuna c'è anche il mondo esterno e loro, come dicevo poco fa, hanno proprio voglia di riscoprire la relazione reale, ma come dire, forse c'è una, per alcuni casi può esserci anche un po' una normalizzazione dell'utilizzo della rete e di quello che i ragazzi cercano un po' di, come dire, scoprire e di gestire, per cui credo che sia stato un periodo positivo anche da questo punto di vista. Ripeto, i rischi ci sono, rischi anche relazionali, basta pensare, non so, alle chat di WhatsApp in cui ci possono essere dinamiche faticose che non vengono gestite in modo adeguato, l'utilizzo di alcuni siti, come dire, che forse non sono proprio appropriati, per cui i rischi ci sono e mi piacerebbe in queste serate un po' vedere insieme ai genitori, ad esempio, quali sono i rischi che loro pensano di, come dire, in cui i loro figli possono imbattersi, quali sono i rischi, secondo loro, di tutto questo periodo e le conseguenze un po' anche del periodo. Ecco, per cui c'è un po' una visione anche qui a 360 gradi. Io, dottoressa Maranci, non posso non toccare un attimo, magari sviando, però si parla di rete, si parla di piattaforme. Io riflettevo un anno e mezzo fa, quando tutto iniziò, quanto la scuola italiana a livello generale fosse impreparata, ma veramente impreparata da ogni punto di vista, di strumentazione, di competenze degli stessi insegnanti. Eppure in questo anno e mezzo abbiamo fatti tanti di passi in avanti e ripensarci oggi sembra quasi una sorta di preistoria. Oggi siamo in grado di attivare la piattaforma per la didattica a distanza in pochissimi minuti. E questo è anche un passo in avanti. E allora il futuro della scuola, che non sarà certamente più la scuola del passato, dovrà raccogliere e potenziare questo aspetto. Non possiamo dimenticarlo e non potrà, credo, essere dimenticato, perché la scuola del futuro deve essere una scuola integrata. A me piace pensare a una scuola in presenza e qualche giorno a settimana anche a distanza, perché poi queste esperienze a distanza sono quelle che permettono ai ragazzi e li stimolano all'autogestione, all'auto-organizzazione del tempo. Insomma, li aiutiamo ad essere più indipendenti e autonomi da questo punto di vista. Sì, allora intanto parto dalla prima parte della sua domanda, del suo stimolo. Allora intanto i docenti, parto da loro, perché questa è una figura educativa molto importante e devo dire che si sono davvero messi in gioco, perché come lei dice, la scuola italiana non era completamente impreparata, ma nemmeno poi così pronta. Quindi c'è stato bisogno di fare formazione. Quando io sono arrivata in questa scuola all'inizio di questo anno scolastico ho trovato un istituto che aveva già adottato una piattaforma, ma era successo appunto a causa della pandemia, quindi non c'è stato il tempo di lavorarci molto nel secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico. Quindi quest'anno è stata attivata una formazione che ha visto, e questo veramente ci dà l'idea del bisogno, il più del 90% dei docenti di tutto l'istituto, non soltanto della scuola secondaria, ma anche della primaria e della scuola dell'infanzia, che hanno partecipato a questa formazione, durante la quale, attraverso docenti più esperti, e quindi una formazione che ha messo in campo le risorse interne, anche questo è molto bello, durante la quale, dicevo sì, i docenti hanno proprio sperimentato, hanno fatto anche autoformazione le applicazioni di questa piattaforma, e ora non li ferma più nessuno, cioè sorrido perché molti mi scrivono e mi dicono Preside, guardi che io adesso sto facendo questo lavoro, posso farlo in questo modo? Sì. E come dice lei, sì, una scuola integrata, una didattica integrata, tant'è vero che la normativa proprio ci ha chiesto, a causa della pandemia, ha chiesto ad ogni istituzione scolastica di predisporre un regolamento, un ennesimo regolamento, molto importante, che si chiama piano scolastico della didattica digitale integrata, che è vero che noi utilizziamo quando facciamo didattica a distanza, ma non prevede solo questo. Si potrà in futuro, senz'altro, proporre delle soluzioni anche di tempo scuola, avvalendosi dell'autonomia scolastica di cui siamo dotati, come lei suggeriva, quindi una parte di didattica a distanza, una parte di didattica a scuola, oppure integrata, cioè una parte di alunni in una stanza, un'altra parte di classe nell'altra stanza, collegati tra di loro attraverso le nuove tecnologie. Insomma, c'è ancora molto da sperimentare dal punto di vista proprio della didattica e delle ripercussioni che questa deve avere sui corsi di apprendimento dei nostri alunni. La rete risorse e rischi se ne parlerà nelle serate del 17 e 24 di maggio. E veniamo all'ultima tematica che sarà trattata, dottoressa Pirrera, prevenzione, dipendenze, fumo, droghe o alcol, nelle serate del 3 e 7 giugno. Siamo quasi alla fine, al termine dell'anno scolastico. Sì, allora, si è un po' scelto in questo tema, proprio per non dimenticare, come dire, però anche quali sono poi quegli stimoli, diciamo così, o quelle attrattive, ecco, possiamo dire in questo modo, che riguardano la vita dei ragazzi, no? Per cui vuole essere una serata sempre di confronto e di riflessione su quelle che sono proprio queste tematiche, mettendo in rilievo quelli che sono i rischi e cercando pertanto di mettersi in un'ottica proprio di prevenzione. per cui aiutare un po' i genitori a non solo comprendere effettivamente cosa vuol dire, no? Poi avere e come interagire, come relazionarsi con il figlio che purtroppo si avvicina ad alcune di queste tematiche, ma vuole essere proprio anche un momento in cui insieme si cercano un po' delle strategie di prevenzione per cercare di aiutare, come dire, i genitori a fermare il fenomeno un po' prima, ecco, prima che avvenga. Per cui vogliono essere proprio due serate di confronto e di stimolo su questi temi. Credo che siano argomenti purtroppo, come dire, molto attuali della preadolescenza, forse in questo periodo storico per alcuni versi sono un po' passati in secondo piano perché il Covid ha ovviamente stravolto tutto, come si diceva all'inizio, però ecco, il senso un po' di introdurre queste serate è proprio perché sono temi però, come dire, sempre attuali e su cui è importante muoversi in ottica di prevenzione. Lei ha un osservatorio privilegiato. Se noi accendessimo il faro sulla popolazione di quella che si chiamava scuola media, secondaria di primo grado, il fenomeno delle dipendenze di vario genere negli ultimi anni è aumentato, è diminuito? Credo che in generale lo sviluppo e quindi l'avvicinarsi ad alcuni temi stia diventando sempre più precoce, per cui basti pensare che parla di relazioni affettive in senso stretto già con i bambini elementari, per cui c'è proprio una precocità rispetto ad alcuni temi. Credo che per cui all'interno anche dei ragazzi delle medie sono già cominciati alcuni pensieri perlomeno rispetto a queste tematiche della dipendenza. Poi tra il pensarlo e il farlo per fortuna c'è ancora un po' di tempo ed è in quello spazio lì che noi vogliamo inserirci, perché effettivamente il ragazzo preadolescente, se pensiamo proprio alla preadolescenza, ha proprio voglia di rompere le regole, rompere i limiti, ma perché funziona la la crescita. L'ottica di prevenzione vuol dire accogliere questo pezzo e aiutare il ragazzo poi però a non sfociare in delle tematiche in dei rischi, in delle tematiche di rischio. Ecco, per cui è un po' il pezzettino prima di cui noi vorremmo un po' occuparci. Prevenzione, dipendenze, fumo, droghe e alcol nelle serate del 3 e 7 di giugno, sempre online. Tutti questi appuntamenti, tutte le informazioni, tutti i link, i nostri amici possono trovarli sul sito ufficiale dell'Istituto, che tra l'altro sta girando sotto, sotto i nostri video. www.cgarileicorsico.edo.it Sono passati 35 minuti, non so se ve ne siate accorti, però la cacchierata era molto interessante. Avremmo potuto anche toccare altri aspetti. Magari lo potremo fare in un altro appuntamento. Io ringrazio la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Galilei, Sonia Maranci, la dottoressa Federica Pirrera, psicologa e psicoterapeuta. e quindi cerchiamo di guardare al futuro con fiducia, no? Certo, sì, sì, senza altro. Con fiducia e con tenacia anche. Fiducia e tenacia. Un saluto a tutti. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Grazie per la visione!